Uomini e donne Uomini e donne, Vittoria De Ganello si è rifatta il seno Arrivano nuove news da una delle ex corteggiatrici più seguite di Uomini e donne. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci delle ultime novità riguardanti la fidanzata di Mattia Marciano, Vittoria De Ganello. . Pare infatti che la giovane nelle scorse ore abbia stupito tutti i suoi fans, facendo ricorso ad un piccolo ritocco estetico. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Vittoria De Ganello e Mattia. Tutti i telespettatori di Uomini e donne sicuramente ricorderanno chi è Vittoria De Ganello e qual è stato il suo percorso nello show di Maria De Filippi. La giovane infatti l'anno scorso è stata una delle corteggiatrici del tronista napoletano, Mattia Marciano. . Per la precisione Vittoria non è stata soltanto una delle tante ragazze che si sono presentate in studio per corteggiare il tronista ma è stata anche la sua scelta. . Va detto comunque che Mattia e la De Ganello non hanno avuto una scelta classica con i petali e le sedie rosse, ma si sono dovuti accontentare di una scelta improvvisata fatta durante la registrazione di un esterno a casa della corteggiatrice. . Tutto questo è successo a causa dei tantissimi dubbi che il pubblico a casa e gli opinionisti in studio provava nei confronti della coppia. . In molti infatti erano convinti che Mattia e Vittoria si conoscessero e si fossero messi d'accordo da molto prima che il trono di lui cominciasse. . Nonostante questo però i due giovani sono riusciti lo stesso al di fuori del programma ad aggiudicarsi l'affetto e l'amore di una grossa fetta di followers che ogni giorno li segue e li sostiene sui social. . Sono stati proprio quest'ultimi nelle scorse a notare alcuni piccoli cambiamenti fisici nel corpo di Vittoria. Il cambiamento fisico di Vittoria. Nelle scorse ore Vittoria De Ganello è tornata a postare su suoi social foto che la ritraggono in prima persona. . Fino a qui ovviamente non ci sarebbe niente di male, se solo i fans non si fossero resi conto che qualcosa nel fisico della fidanzata di Mattia Marciano è notevolmente aumentato. . La giovane nelle nuove fotografie appare in effetti con un decollete più abbondante rispetto a quello che aveva fino a qualche settimana fa. . Sembra proprio che Vittoria abbia deciso, come molte altre sue colleghe uscite da uomini e donne prima di lei, di rifarsi il seno. . La stessa scelta infatti l'avevano fatta in precedenza Rosa Perrotta, Valentina Rapisarda, Clarissa Marchese, Francesca Del Taglia, Alessia Cammarota, e tante altre. .